Dalle ore 22 di sera alle 6 del mattino il pronto soccorso di Pesaro sarà protetto da un presidio di sicurezza fisso con guardia giurata armata. E' questo da oggi l'effetto collaterale prodotto dall'ennesimo episodio di aggressione ricevuta mercoledì scorso da medici e infermieri del primo soccorso dell'ospedale San Salvatore di Pesaro. Un'aggressione tracimata in un settim di protesta nella mattinata di venerdì amplificata agli altri ospedali marchigiani. Una manifestazione alla presenza tra gli altri del prefetto Tommaso Ricciardi, del questore Michele Todisco e dall'assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini. Operatori del pronto soccorso troppo vulnerabili e sottodimensionati nel personale per conciliare un maxi afflusso di accessi al punto d'emergenza. Ora però inizia il presidio con guardia armata con la prospettiva di ampliare il servizio H24 su Pesaro e su Fano una volta individuato il personale di sicurezza dedicato. Una richiesta che Nicola Baiocchi, oggi consigliere regionale, propose da consigliere comunale di Pesaro nel 2019 ma la mozione fu respinta. Il meglio tardi che mai sicuramente non è che erano tempi non sospetti perché era un periodo dove già c'erano state diverse aggressioni all'interno del pronto soccorso, in generale all'interno dell'ospedale di Pesaro, è un problema che riguarda tanti nosoccomi della nostra provincia e della nostra regione e quindi chiesi con una mozione di indirizzo, insieme ai consiglieri Marchionni, Giulia e Emanuele Gambini, di approvare una mozione di indirizzo affinché Marche Nord, chiaramente concordata con la regione Marche, introducessero una postazione H24 fissa di personale, magari anche di polizia privata armata, affinché ci fosse veramente un'attività di deterrente all'interno di questa postazione, di questo ospedale perché ormai è diventata una terra di nessuno dove questi operatori, oltre a dover supportare il gravissimo peso legato all'emergenza Covid e tutto quello che stanno sostenendo, devono anche difendersi dall'aggressione di questa gente che non ha veramente neanche rispetto per il lavoro di queste persone. All'epoca la mozione fu bocciata per un problema di carenza d'organico nelle forze di sicurezza o per una problematica strettamente politica? Deduco una problematica strettamente politica perché un'amministrazione di Marche Nord avrebbe potuto benissimo già a quel periodo introdurre quello che ha fatto finora, in questo momento, perché era un problema che era già abbastanza sentito da tutti, quindi fu un problema strettamente politico anche perché in regione c'era la setta parte politica del Consiglio Comunale che forse non si sentiva di vincolare la regione su una cosa che poi effettivamente era una cosa molto semplice da introdurre.